e bella a tutti ragazzi eccoci a questo nuovo video su GTA 5 online oggi siamo in una nuova gara parkour creata da Max Noffe e guardate un po' che macchinina innevata che abbiamo ovviamente è una macchina moddata ragazzi però è spettacolare pure le sirene vanno epico è epico raga allora andiamo a vedere il parkourito va vediamo che c'è di bello comunque la macchina è fantastica gg attenzione big suino ahhh frena ok ce l'abbiamo ce l'abbiamo ecco qua monkey the best set roll ragazzi sono ancora un po' raffreddato si sente dalla voce adesso mi passerà perché sto meteo tutto strano qua un primo salto ce l'abbiamo frena 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 meno male che ho tolto le collisioni raga però qua si capisce niente eh qua si capisce niente raga ve lo dico si è incastrata nooo ho beccato il filo whatta no raga ora 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 pensavo che era invisibile quel filo la ancora il filo ma non si capisce niente raga c'è l'albero lì matuna eh mi ha messo l'albero lì io non capisco dove è la mia macchina non prendere il filo por favor non prendere il filo ok siamo passati raga oh mio dio che ansia qua c'è anche no 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 ok siamo passati gg piano piano c'ho un po' la macchina distrutta raga ma fa niente prossimo checkpoint la mettiamo bene vai vai che è libero è libero è libero ok no nooo hashtag romanaccio gg re anche se adesso sto cercando di farlo tutto a manetta senza perdere ulteriore tempo ma troppi errori difficile vincere una gara con tutti quegli errori però noi proviamo a fare la remuntata raga ok vado io non si accendono più le sirene o si è buggata ok va remuntata ricascato lì sta rasclerando quel giocatore che è bixuino allora seguiamo l'antenna va non ho voglia di ricadere all'ultimo ma proprio va 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 e così era ok allora raga secondi non male non male per esserci trollati tutte quelle volte però adesso direi che dobbiamo andare veloci raga ok dobbiamo andare velocissimi così recuperiamo il primo eh che è al check successivo dai dai che si può recuperare ragazzi si può recuperare io ci credo io ci credo mmm ok senza troppi errori e mazzo una bateria bateria ah non è outlast niente bateria ma lui mi sta piocendo un botto adesso vediamo cosa portare dopo outlast vediamo un po decidiamo insieme ora intanto abbiamo preso un altro check perché il rallentatore ahiaiai ahiai ahiai bateria lapsua ok il primo è IECO 50 il signore IECO venga qua non scappi aia qua la vedo grigia grigiastra no pensavo che era attaccato lì ma il dio ok rifacciamo qua belli centrali bella sta parte mi piace molto molto bella sta parte però non ci dobbiamo più trollare l'ho già detto prima ma a quanto pare ok c'è la paleolica dove io non ci voglio credere che proprio mi sono fermato proprio dove spassava la paleolica quante parti sono di queste sicuramente altre tre e sto creatore va a tre 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 parti e tre parti va pure piano sta parte vai 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 come ho fatto a beccarla prima speriamo che sono solo due parti ma secondo me sono tre se o no andiamo a vedere va adesso bisogna andare a destra prima a sinistra e ora a destra bella però sta macchina moddata innevata stupenda dobbiamo solo fare attenzione a non beccare la pala eolica e se becchiamo la pala eolica gg rect ah ok si è buggato si è buggato non sale e a mo zitti che l'ho recuperata zitti che l'ho recuperata in estremis attenzione proprio in estremis regala recuperata maizuna è qua è qua il primo è qua regala l'abbiamo recuperato cerchiamo di stare dritti qua fargli fare il suo lavoro ho perso il coso ok ho preso il check vieni qua oh mio dio cosa c'è di difficile qua tutto veloce qua regala allora però il problema è che non si vede niente vabbè ok dobbiamo essere bravi noi a frenare in tempo 26.000 manovre ok un'altra frena allora non vedo niente ok un'altra manovrina mamma mia è grosso sto mezzo qua oh no qua tocca andare veloci frena ok primi mi è cascato è cascato quello davanti a noi regala mamma mia l'abbiamo fatta la remontata qua regala piano 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 sto catorcio ok quanti check mancano pochi qua direi di andare a no 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 mamma mia questo è il pericolo si può trollare devi stare belli centrali prendiamo un po' di rincorsa vai se non stiamo centrali rect ok uh ho preso il check vediamo ora cosa c'è piano 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 e come saliamo qua respawniamo raga bisogna capire come salire qua allora a parte che si sfascia sto coso ok dobbiamo sfasciarli tutti noi quindi va bene va bene li sfascieremo tutti ah è complicata qua molto complicata se arrivasse qualcun altro che mi dà una mano a sfasciare sti cosi allora piano oh 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 ok primo andato poi qua è un problema dobbiamo cercare di anticipare ok così piano piano e salire questo bisogna sfasciarlo ancora no è messo più basso questo ok qua ci passiamo bene eh qua e qua è il problema allora anticipiamo raga abbiamo messo i spazi proprio strettissimi da passare ti so 90 1 2 3 4 è arrivato anche il secondo ah ma qua non sarà facile qua non è facile per niente perché vedete che è grossa piano piano dobbiamo far andare proprio così si è buttata da sola ma zonna sta parte mmm ok mmm sta parte come pu puzza penzola penzola sta parte penzola anticipiamo di brutto dobbiamo cercare di capire niente lui ce la fa gg dobbiamo cercare di anticipare di brutto raga ma di brutto proprio così per non cascare ok piano qua eh l'ultimo ok ci siamo concentrazione però si no 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 se cascavo qua quittavo ve lo dico non vedo niente ok ora raga cosa abbiamo alberi di natale anche se natale è finito oppa no 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 troppo veloci no no perfetti allora ste lucette qua trollano ok no no oh cosa fa stava danzando raga oh ok andiamo a beccare l'altro sempre in tranquillità e serenità luce ok sti alberi con le lucette oh piano 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 dai così ci siamo ok abbiamo l'ultimo e penso si c'è il checkpoint bella gara eh però trolla parecchio questa questa macchina qua molto molto trollosa ora 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 ok ci siamo ripresi la prima è lottata è lottata sta prima ok piano qua con sto coso che gira ora perfetto oh sali ok perfetto raga check preso abbiamo quasi terminato la gara facciamo il one ride no 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 vai giù vai giù vai giù lo sapevo io che non andava giù in tempo madonna che ci fregano la prima c'è il traguardo lì raga però qua va a fortuna purtroppo qua va a fortuna se quel coso lì non va giù in tempo dai 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 ok ecco arriva uh passato e mo ah ok di la cerchiamo mi sa che così non ci arriva proviamo ma vediamo no dobbiamo fare dalla parte all'incontrario prendi il check ok preso il check ne spawniamo dai che sta prima posizione è sempre più vicina raga bella gara assolutamente bella ma trollosissima qui abbiamo la parte finale credo ui 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 perfetto raga quando si deve vincere una gara bisogna stare tutti belli concentrati anche qua piano gira non ho girato la macchina mia colpa però forse recuperiamo forse non lo so ok ci siamo l'ultima e vedo il traguardo oh guardate che bello bella sta parte qua dentro e andiamo per beccarci questa bella prima posizione sofferta perché veramente è stata sofferta raga spero che questo video vi sia piaciuto lasciate tanti bei like iscrivetevi al canale attivate la campanellina e noi come sempre ci becchiamo al prossimo video bella raga grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti